nel dibattito sulla scuola quello della valutazione è un tema ricorrente se ne parla in continuazione o per riferirsi alla verifica degli apprendimenti degli studenti o per parlare della valutazione del sistema scolastico si tratta di risvolti diversi di un problema ampio complesso di difficile soluzione sul quale non esiste la risposta giusta e definitiva siamo nell'ambito della ricerca pedagogica sociale ed è inevitabile anzi direi doveroso che sul tema si confrontino posizioni diverse alcuni principi sono però ormai condivisi da più parti per esempio è assodato e adesso c'è anche una legge che lo stabilisce che nella scuola primaria non si debbano usare i voti ma si debba fare riferimento agli strumenti della valutazione formativa allo scopo di poter regolare e correggere l'intervento di insegnamento apprendimento che il voto sia inadeguato anche nella secondaria di primo grado se lo chiedono in molti da diverso tempo tanto che ormai in diverse scuole italiane si stanno già realizzando esperienze e sperimentazioni in questa direzione molto più complesso e articolato è il dibattito sulla valutazione di sistema e sugli strumenti che attualmente si stanno utilizzando e che si riducono in buona sostanza alle rilevazioni dell'invalsi il tema è complicato e lo si è visto nei giorni scorsi in occasione del dibattito che si è svolto nell'ambito di un convegno organizzato dalla flc cgl e dall'associazione proteo fare sapere i temi i problemi sono molteplici a partire dal fatto che non tutti sono d'accordo sul fatto che gli esiti delle rilevazioni dell'invalsi siano un indicatore attendibile del funzionamento complessivo dell'intero sistema scolastico molti osservano in proposito che l'invalsi si riferisce esclusivamente agli apprendimenti in ambito matematico e linguistico italiano e lingua straniera mentre restano fuori aspetti niente affatto secondari come la formazione scientifica ma anche quella storica artistica musicale e così c'è chi da tempo propone un modello del tutto diverso effettuare le rilevazioni non in modo generalizzato ma a campione ecco proprio questo tema è stato discusso nel corso del convegno qui abbiamo fatto cenno e sentiamo qual è stata la risposta del ministro patrizio bianchi certo colgo anche le riflessioni che mi vengono fatte cioè se in fondo siamo a ricerca di benchmark il benchmark può essere fatto anche per campione non soltanto in maniera censuaria ci possono fare anche rilevazioni diverse si può usare tutta la varietà degli strumenti di cui disponiamo in talune condizioni che sia assolutamente utile non sufficiente utile utilizzare delle strutture campionarie in alcune situazioni penso che sia utile avere dei dati sensuari avendo chiaro il limite dell'uno e dell'altro quindi autonomia e sistema nazionale sono i due perni su cui noi ci dobbiamo muovere avendo ben chiaro che comunque occorrono strumenti di valutazione anche dell'azione delle politiche ovvio da un soggetto terzo ma sia ben chiaro anche che dobbiamo avere da cautela ancora una volta di avere degli strumenti che dobbiamo riuscire a collocare nel loro effettivo utilizzo nel loro scopo e d'altra parte essere in grado di utilizzare con le capacità e con le cautele con cui tutti noi ci confrontiamo con le realtà che andiamo ad esplorare infine su questi problemi non mancano le critiche sulle conseguenze più o meno dirette delle rilevazioni dell'invalsi la più sgradevole sostengono in tanti è che di fatto gli esiti servono spesso a redigere classifiche e graduatorie di scuole mentre dovrebbero essere utilizzate per individuare e sostenere le aree e le scuole più in difficoltà ma il problema strutturale più delicato sta proprio nella stessa legge istitutiva del sistema di valutazione che prevede che per ottenere risultati affidabili si debba fare riferimento a tre pilastri invalsi indire e corpo ispettivo peccato che ormai gli ispettori siano ridotti a poche decine mentre ne servirebbero diverse centinaia come si può comprendere il problema è davvero di difficile soluzione e deve quindi essere affrontato su piani e livelli diversi ci sono questioni pedagogiche didattiche ma anche sociali che a loro volta rimandano alla necessità di una riorganizzazione dell'intero sistema scolastico grazie a tutti